Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi come è semplice e facile modificare dei comuni barattoli da conserva e renderli piccoli portoggetti. Avrete bisogno di pochissime cose, di un barattolo ovviamente, di una colla forte tipo hack, di un animaletto giocattolo che potrete tranquillamente trovare anche nei supermercati, di una bomboletta del colore che più vi piace, io ho scelto il nero. Inizio ovviamente con incollare l'animaletto di plastica al tappo del barattolo, utilizzando appunto 4 puntini di colla su ciascuna zampa. È importante che utilizzate l'hack perché gli altri tipi di colla non attaccano molto bene la plastica e il metallo. è importante che tiggiate ben forte per far aderire le zampe dell'animaletto di gomma al tappo, così la presa sarà molto molto salda. Aspettate qualche minuto. Una volta che la colla è asciutta, procedo ovviamente a colorare il tutto. Utilizzo la bomboletta spray che vi mostrano prima e cerco di fare una copertura quanto più uniforme. Nel caso in cui la parte sottostante rimanga bianca, aspettate qualche minuto, fate asciugare il resto e poi girate l'animaletto il tappo e colorate anche la parte sottostante. Ora non vi resta che aspettare che asciughi e poi ricomporre il vostro barattolo. Potete decidere di utilizzarli nei modi che più vi piacciono. Io ho messo in uno dei binischetti di cotone, in uno dei pennelli e poi delle creme, però potrete utilizzarli per ogni tipo di oggetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!